E' ormai da 20 giorni che si ripetono queste immagini. Da tempo infatti sgorga acqua pulita da questo tombino a pochi metri dal civico 3 di Viale Vicenza. Un problema segnalato ai tecnici dietro, uscita nelle scorse settimane per un primo sopraluogo e ad oggi mai più tornati. Di quella prima indagine sull'asfalto sono ancora ben visibili i segni, ma da allora l'acqua non ha mai smesso di fuoriuscire, giorno e notte, come conferma chi quotidianamente percorre a piedi questa strada. Sì, da tanto tempo, da tanto tanto tempo. Mi dicevano che sono stati anche chiamati i tecnici, ma per adesso è solo un segno. Sì, è stato chiamato e mi passo continuamente che vado a piedi e vedo l'acqua qua che corre, ma adesso stamattina corre più del solito. Uno spreco, quello che da tempo si registra, a pochi metri dalla chiesa di Santissima Trinità, che sta provocando l'indignazione di molti cittadini. In tanti ci avete chiamato lamentando, ad esempio, come per il risparmio idrico, si possa rischiare persino una multa salata, solo per innaffiare orti e giardini, mentre in situazioni come questa nessuno intervenga in tempi rapidi. Ma c'è anche chi ha deciso di tenere conto del tempo e dell'acqua che passano inesorabili. Guardate questo cartello, indica pubblicamente il trascorrere delle giornate. Il nostro obiettivo è che il conto si fermi presto, per questo sottoporremo il problema ai vertici dietro.